La fede nel Dio unico e tre volte santo non è e non può mai essere generatrice di violenza e intolleranza. Lo ha ribadito Papa Francesco parlando alla Commissione Teologica Internazionale impegnata a riflettere sul tema monoteismo e violenza. Per quanto riguarda la dottrina sociale, il Papa ha notato che la Chiesa per prima deve vivere quella fraternità e solidarietà che predica come modello per le altre comunità umane. Papa Francesco ha poi sottolineato l'importanza del lavoro dei teologi e delle teologhe che però devono anche crescere nello spirito di orazione e devozione e così, con profondo senso di umiltà, essere veri servitori della Chiesa.